Dire Riccardo Porciani, boh, chi è Riccardo Porciani? Lo conosci? Non lo conosco. Però dire Riccardo Corredi, ebbè, un nome, una garanzia e una simpatia unica. Riccardo, grazie di concedermi questa intervista. Cara Anna, guarda, io in diretta ti voglio dare un bacio perché era tant'anni che non ti vedevo e ti trovo sempre bellissima. Con lo stiocco. E' vero, e quindi mi fa tanto piacere che tu sia venuto anche a trovarmi qui a Livono. Sei veramente una persona di animo, lo so, di un cuore d'oro, gentilissima, e mi ha fatto piacere rivederti. Quando si dice Riccardo Corredi, si dice di me ti puoi fidare, come di Anna. Perché? Perché l'esperienza, e quando si fanno i lavori con passione, sicuramente la passione è quella che ti premia. Chi semina raccoglie. Noi ormai abbiamo iniziato, tanti anni fa Anna, tu lo sai, perché abbiamo iniziato... Facciamo conti, ho visto prima tuo figlio, mi è venuto un colpo. E quindi abbiamo iniziato con Anna la televisione tanti anni fa, noi lo ci siamo ancora perché quello che noi facciamo, e la professione anche di Anna, la facciamo con la passione. Prima vendevo biancheria, poi l'ho lasciata nel 2000, perché con l'avvento della Cina, eccetera, eccetera, io amo la qualità italiana, il Made in Italy. Quindi ho cambiato un pochino, mi sono messo nel settore dove già i nonni producevano i materassi, ci siamo messi proprio lasciando biancheria nel reparto notte. Notte vuol dire materassi, reti, letti e poltrone. E abbiamo, invece di fare la solita televendita, come faccio? Faccio la pubblicità. Però vado a mettere tanti negozi vicino a tanti clienti che nell'arco dei 40 anni ho acquisito. Quindi noi siamo sempre più vicini a voi e ringrazio anche oggi tutte le persone che sono venute qui all'inaugurazione alla zona Parco Levanti a Livorno, perché è un senso, secondo me, di affetto. Ti seguono le persone da tanti anni. Ho notato una cosa prima, quello che purtroppo succede anche a me, che c'era una signora che aspettava te e tu le hai detto, c'è mio figlio, è la stessa cosa. Vogliono tutti te, come se devono parlare, vogliono me. Perché ci vedono, ma perché anche probabilmente vedono che le cose si fanno con passione, come hai detto te. Non dico col cuore perché mi sembra una mia concorrente. E quella che dice col cuore, proprio vabbè, lasciamo perdere. Però io volevo capirti anche, e ho letto tutto il tuo libro, ma ci rendiamo conto? Mi è piaciuto il tuo libro, il libro che racconta la storia di Riccardo, c'è la foto di quando era piccolo, di quando era bambino, è una meraviglia quel libro. Riccardo che ha cominciato alla radio. Sì, io ho cominciato alla radio e facevo Riccardo il quizardo, gioco duro magagliardo. Senti te, dal quiz poi ho cominciato a fare le televendite, perché nel 1978 Pisu mi vuole portare a fare le prime televendite. E da lì non le ho mai lasciate, la televisione è il mio amore. È un incontro con tanti personaggi, perché le televendite di Riccardo non erano, però io fare questo passato aspetta, aspetta che poi ci parliamo un po'. Dunque, le televendite di Riccardo coinvolgevano, non erano vendite, erano spettacoli. Perché Riccardo fa spettacolo come persona, perché Riccardo è una persona amabilissima, simpaticissima, e poi aveva sempre vicino a sé dei personaggi, tipo Pisu, tipo Marisa del Frate. Poi chi hai avuto? Elenchiamone qualcuno. Ma no, parlando dell'epoca ho avuto sia la Vilma Goic, la Nilla Pizzi, e ho avuto tutti quei personaggi famosi in televisione da Daniele Piombi, eccetera. C'era anche Pippo Baudo, che all'epoca cominciò a fare queste prime iniziative delle vendite, eccetera. Cioè, come presentatore, è ovvio. Perché il commerciante si affancava ad un personaggio famoso, per questo per dare ancora più credibilità. Ma lei invece era l'opposto, era il commerciante che ci metteva la faccia. E da lì hanno cominciato a capire che voleva dire andare in televisione, produrre e vendere. E da lì, secondo me, abbiamo insegnato anche ai famosi poi venuti grandi Giovanni Rana e così via. Perché è la faccia nostra che conta. Quindi noi diamo credibilità. Se uno è credibile dopo tanti anni dovete venire a comprare un materasso, che me lo merito. È vero, perché prima non esisteva che il dirigente della ditta, il proprietario, si faceva vedere. È una cosa che praticamente hai inventato tu. Perché ti sentivi sicuro di quello che facevi. Ed è quello che la gente vede. È certo. Allora, volevo tornare anche ai passi di oggi, se me lo permetti, Anna. Perché all'epoca c'erano le televendite. Poi, come tutto il mondo, viene sempre sciupato quello che di buono si crea all'inizio. Vedi, per fare un nome, Vanna Marchi. Va bene, sì. Io lo posso dire, sono giornalista. Lo posso dire. Sicuramente ci vuole coerenza, ci vuole tanta perseveranza nel lavoro. Ma questo ha rovinato il discorso di Vanna Marchi, le televendite. È una cosa incredibile. Perché le persone hanno fatto, purtroppo, di tutta erba un fascio. E non è così. Sì, e questo approfitto di questa intervista per sottolinearlo. E se mi permetti, raddoppio la dose, allora. Perché oggi, perché io non faccio più le televendite dal 2001? Perché oggi vanno in televisione, fanno vedere un prodotto, prezzo civetta, viene un venditore a casa e vi fa la trasformazione. Quindi io non voglio fare la teletruffa, io voglio fare una televendita nel caso mio. Quindi pulita, uno viene in negozio, lo guarda, lo sceglie. 199, c'è. Non ti piace, non lo compri. Ma c'è, non è un esca per tirarti il negozio e per darti un prodotto perché lo voglio vendere a 1000 euro. Lì è tutto sbagliato. Io sai che cosa dico sempre, Anna? Il mio guadagno non è vendere un materasso. Il mio guadagno sei tu che lo compri. Una volta che ti trovi bene mi manderai i clienti e quello che ho guadagnato di meno lo recupero nella quantità. Senz'altro. E poi vogliamo anche dire che è tutta produzione tua propria, è tutto griffato, tutto firmato con una bella R. R che vuol dire Riccardo. Non ho l'R moscia, sentite come la dico bene. R! Praticamente era un nastro di raso girato e faceva tipo ricamo. All'epoca si fece questa R con questo nastro. La Made in Italy è vero Anna, io lavoro soltanto qualità italiana. La materia prima è semplice. Wefer SPA a Lissone viene fatta la materia prima. Nella mia fabbrica a Prato si fanno i materassi. Nei miei negozi si vendano. Quindi non ci sono passaggi di mano. Più semplice di così, niente Riccardo. Bene, sono stata felice di ritrovarti. Grazie. Ti invito nella mia trasmissione. È un appuntamento che prendi? Verrò sicuramente. Concedimi un pochino di tempo perché siamo con le prossime aperture in Viale Redi a Firenze e stiamo trattando anche una sesto per cui insomma in anteprima te lo dico a te. Proprio, in anteprima. In anteprima, bene, così lo sanno tutti gli amici da casa. Grazie Riccardo, buon proseguimento. Grazie Anna. Alla prossima. Grazie Anna, è a Telecentro, vero? Certo. Verrò sicuramente da Anna. Non posso mancare, grazie. Vi aspetto. Vi aspetto a Livorno, ma io vengo da voi a Telecentro. Ciao, ciao a tutti e alla prossima.